Dovrà subire un intervento al braccio, ma per fortuna è fuori pericolo. Arrivano buone notizie da Fazzi di Lecce, dove attualmente ricoverato il 16enne è rimasto vittima della tragedia stradale avvenuta sulla Lecce Gallipoli e che purtroppo ha strappato la vita al suo papà Luigi Aloisi, 47enne, originario di Collemeto. Tutto è accaduto sulla statale 101 intorno alle 19, all'altezza dello svincolo per copertino, quando per cause ancora da accertare Luigi Aloisi, alla guida di un furgoncino, ha perso improvvisamente il controllo, ribaltandosi sull'asfalto diverse volte, tanto da percorrere circa 200 metri prima di fermarsi dopo un violento urto contro il guardrail. Il tutto davanti agli occhi increduli del figlio che era con lui nel furgoncino, ma anche davanti agli occhi dei passanti che hanno assistito alla terribile scena e purtroppo alla morte di Luigi Aloisi. Il figlio invece è stato immediatamente trasportato in codice rosso al Fazzi, ma per fortuna almeno lui se la caverà.